Era già nella chiesa di Santa Maria della Pietà di Ginestra, a San Giorgio del Sagno, la salma di Elvio Cheche. Il 19enne è morto tragicamente in vacanza con gli amici l'8 luglio scorso in Grecia, stroncato da un improvviso malore dopo essersi immerso nella piscina dell'hotel in cui alloggiava. La bara di Elvio, atterrata ieri sera all'aeroporto internazionale di Capodichino a Napoli, è stata subito trasferita presso la chiesa di San Giorgio del Sagno e non presso l'abitazione di famiglia come si era pensato in un primo momento. In tanti a salutare per l'ultima volta Elvio Cheche. Incontenibile il dolore dei familiari che hanno raggiunto la chiesa stretti dall'abbraccio delle tantissime persone che hanno voluto rendere omaggio ad Elvio, partito qualche settimana fa per una vacanza a Corfu dopo l'esame di maturità che aveva superato brillantemente. In questi momenti di incomprensione per un dramma assurdo ha commentato il parroco Gianluca Spagnolo, l'unico rifugio è l'amore di Dio. Solo la preghiera può alleviare l'innaturale dolore dei familiari per una tragedia simile. Una famiglia ha continuato il parroco già duramente provato da un altro lutto. La madre di Elvio era infatti scomparsa alcuni anni fa. Toccanti e commossi ricordi degli amici che al termine dell'omelia hanno ricordato Elvio come un ragazzo sempre sorridente e dalla battuta pronta. E l'hanno salutato per l'ultima volta. Ciao Elvio.